Ciao ragazzi, come va? Spero di trovarvi la grande, sono Mitch Ferniani, coach e coach di coach, ho fondato Adaptive, scuola di formazione imprenditoriale per personal trainer e For Life, percorso annuale comprensivo di coach nutrizionista app personalizzata, check costanti per garantire il progresso e il raggiungimento degli obiettivi nel proprio percorso fitness. Oggi inauguriamo una nuova serie che voglio portare sul canale in cui andiamo a vedere tutti gli esercizi della sala pesi, uno a uno, senza pietà, per me, per la mia testa e per la mia vita. Perché è sicuramente il lavoro da fare è tanto, quindi ti chiedo di supportare con un like, con un commento e condividere il video per fare in modo che valga tutto lo sforzo che ci sto mettendo per farlo. In modo tale da darci la possibilità di approfondire ogni singolo movimento che possiamo fare in sala pesi, movimento barra esercizio che possiamo fare in sala pesi, in modo tale da essere consapevoli anche di come inserirlo in programmazione e non soltanto come eseguirlo poi nella pratica. Partiamo con lo squat perché sì, diciamo che il mio passato da powerlifter mi incentiva a seguire bene o male sempre lo stesso ordine quando si inizia un qualcosa. Inizieremo con squat, andremo sulla panca, faremo lo stacco, poi probabilmente ci muoveremo nell'overhead press e da lì ci si apre il mondo degli esercizi in sala pesi, quindi non esitate a scrivermi qui sotto quelli che sono gli esercizi principali che vorreste vedere trattati nella serie. Iniziamo quindi con lo squat, punti chiave. Lo squat con bilanciere, come abbiamo detto, è uno dei tre principali movimenti del powerlifting, quindi è essenziale da utilizzare per il powerlifter, ma anche il bodybuilder che vuole costruire tessuto muscolare e costruire cosce belle massicce potrebbe trarre dei benefici dal movimento della cosciata con bilanciere. La prima cosa da considerare quando ci si approccia all'esercizio è la modalità di incastro. Modalità di incastro che sarà importante perché determinerà ciò che succederà successivamente durante l'esercizio. Possiamo identificare tranquillamente tre tipologie di incastro, poi ci sono sicuramente degli ibridi, ma vanno sempre a tenere in considerazione quelle che sono le tre tipologie principali. Incastro alto o high bar, incastro basso o low bar e incastro frontale. La scelta del singolo esercizio verrà fatta in base a quello che è il contesto e l'obiettivo del determinato atleta e individuo, e sono cose di cui andiamo a parlare comunque durante questo video. Un incastro posteriore basso, low bar, viene effettuato fissando il bilanciere nella porzione più bassa della schiena, in concomitanza dei deltoidi posteriori proprio sopra la spina della scapola. Un incastro posteriore invece alto, high bar, viene effettuato appoggiando il bilanciere nella porzione alta della schiena, in concomitanza con i fasci alti del trapezio, sotto la vertebra C7. Un incastro anteriore, frontale, viene effettuato appoggiando il bilanciere nella porzione invece alta del torace, in concomitanza dei deltoidi anteriori, che faranno in modo di mantenere il bilanciere in posizione tra clavicole e collo. Contrariamente alle dicerie che sono state tramandate nel tempo, nella realtà dei fatti, poi quando si va a vedere i dati alla mano, la tipologia di incastro non vale a determinare in maniera così tanto eccessiva quello che è il ritruttamento muscolare, per quanto riguarda i tessuti della coscia, logicamente. Inoltre è importante considerare che il carico assoluto sollevato con il bilanciere non è assolutamente il principale driver per andare a ipertrofizzare il muscolo, bensì lo è come sempre la prossimità al cedimento, quanto riusciamo a spingerci oltre con il muscolo che vogliamo allenare. Per questa precisa ragione un incastro alto potrebbe essere più consigliabile ad un individuo che vuole costruire delle cosce massicce e non interessa quindi competere in una pedana di powerlifting, viceversa, se si vuole competere in una pedana di powerlifting, se si vuole sollevare il massimo carico possibile assoluto perché sì, perché è una propria passione, allora probabilmente l'incastro basso potrebbe essere più interessante per via dell'accorciamento logicamente della leva di carico. Ciò che abbiamo appena detto è validissimo anche per l'individuo con i glutei poco sviluppati. L'individuo che utilizza lo squat low bar perché sente maggiormente lavorare il gluteo lo squat low bar dovrebbe imparare che nella realtà dei fatti non dovrebbe basarsi solo esclusivamente sulle sensazioni perché il nostro corpo ci gioca dei scherzi quando si tratta di queste variabili, specialmente quando si tratta di movimenti multiarticolari che vanno a reclutare vari tessuti muscolari. E alla fine dei conti potrebbe tranquillamente essere più efficiente sfruttare il movimento di accosciata per quello per cui è stato creato, quindi far lavorare sinergicamente cosce, adduttori e glutei e se si vuole concentrare maggiore lavoro sul gluteo per l'appunto andare a effettuare degli movimenti più canonici di estensione di anca. Solo i più attenti avranno notato una cosa fondamentale, specialmente quelli che adorano lo squat frontale avranno storto un po' il naso quando ho detto che se si vuole far crescere massicciamente le gambe, probabilmente l'incastro posteriore alto è la scelta ideale. Perché non ho detto la versione frontale invece? La cosciata con incastro frontale richiede delle dosi di mobilità delle articolazioni particolarmente elevate, è ciò che si porta dietro con l'esercizio tipicamente un ottimo stimolo alla schiena alta-bassa più che su coscia, glutei e adduttori. Il fattore limitante dell'esercizio non sono più quindi i muscoli che vogliamo allenare effettivamente con il movimento, ma saranno i muscoli stabilizzatori che ci permetteranno di eseguirlo, mantenendo quindi una buona esecuzione tecnica. L'incastro alto è invece la via di mezzo che mette un po' d'accordo tutti i muscoli, non i praticanti. L'incastro alto richiede probabilmente una maggiore mobilità della caviglia rispetto all'incastro basso, ma altrettanto probabilmente minore rispetto all'incastro frontale. Il carico è più facilmente mantenibile nel baricentro e questo lo porta ad essere un esercizio decisamente più consono a sviluppare i tessuti della coscia e dei glutei, i quali diventeranno effettivamente il fattore limitante dell'esercizio. Nel caso in cui si avesse bisogno di aiuto nel raggiungimento della completa cosciata, o comunque una cosciata adeguatamente profonda, che non deve per forza rispettare gli standard del powerlifting, si potrebbe tranquillamente fare affidamento delle scarpette con il tacco che permettono effettivamente di raggiungere una profondità maggiore. È raro che ci siano persone che non riescono ad accosciarsi naturalmente, è ancora più raro che delle persone che non riescono ad accosciarsi naturalmente utilizzando le scarpe da squat non vadano a risolvere il problema. Se il problema persiste o sono delle casistiche particolari, oppure semplicemente si sta sbagliando qualcosa e si deve correggere. Con l'incastro basso invece chiudiamo il cerchio. Finora ne abbiamo parlato tra virgolette male, ma nelle realtà dei fatti non voglio assolutamente far passare questo messaggio. L'incastro basso è, generalmente parlando per la maggior parte della popolazione, la modalità di accosciata che permette di sollevare il più carico possibile. Risultando quindi una scelta particolarmente azzeccata per l'atleta di powerlifting, che vuole ottenere delle ottime prestazioni nel movimento, in quanto con questo esercizio risulta più semplice è tenere la schiena rigida e logicamente l'incastro basso permette di avvicinare il carico al fulcro del movimento, che è l'anca. Quindi accorciare la leva, enfatizzando allo stesso tempo i muscoli comunque di estensione dell'anca, perché comunque c'è una maggiore flessione della stessa. Nonostante ciò, bisogna comunque considerare che tipicamente, giustamente, lo squat, l'incastro basso viene considerato come una posizione meno naturale, meno fisiologica. E c'è sicuramente bisogno di una maggiore curva, di una maggiore tempistica di apprendimento. La curva di apprendimento è più lunga. Quindi se si tratta con individui con poca preparazione o magari poco fortunati a livello di fastidi articolari, non è raro, ecco, che si provochino dei fastidi a livello di spalla, gomito, polsi, proprio perché devono subire delle rotazioni che potrebbero essere un po' troppo rilevanti per una determinata cerchia di persone. Non fare l'errore comunque di considerare soltanto le articolazioni della parte superiore del corpo, perché effettivamente anche l'anca, subendo una maggiore flessione quando andiamo in buca, subisce logicamente uno stress maggiore da questo punto di vista. E anche qui mi è capitato, aneddoticamente parlando, che si incomba più spesso in infiammazioni dalla parte anteriore dell'anca rispetto a quello che si potrebbe fare con un incastro posteriore sempre, però alto. Profondità di accosciata. È importante precisare, come dicevamo prima, che la profondità dell'accosciata dovrebbe essere determinata dal contesto e obiettivo dell'individuo. Non deve essere una cosa arbitraria che dobbiamo per forza di cose standardizzare perché ce l'ha detto il tizio figo sul social network di fiducia. Il powerlifter deve per forza rispettare le regole della competizione e da qui non si scappa. La cresta iliaca, la punta della cresta iliaca nel momento di massima cosciata deve essere in linea oppure sotto il ginocchio, il top del ginocchio. Questo paletto comunque, anche se non è una regola che deve essere rispettata da chiunque, può essere comunque un qualcosa di interessante da tenere in considerazione anche per l'atleta, al praticante che non vuole andare a competere, però vuole standardizzare effettivamente il gesto. Come dicevamo prima, sempre a patto che non ci siano patologie strane, chiunque può andare in massima cosciata e raggiungere questa profondità, specialmente con una buona programmazione e una buona tecnica. È una profondità che permette di ottimizzare per bene il rapporto tra stimolo e affaticamento del gesto, permette di allungare per bene i tessuti nella fase di massima cosciata e quindi generare un ottimo stimolo per i tessuti di nostro interesse. Detto ciò, è comunque importante considerare, precisare che, salvo l'atleta di powerlifting, il singolo individuo dovrebbe fare affidamento a quello che è il proprio range di movimento personale, che lo fa stare bene e che gli fa percepire bene il movimento. L'arrivo in buca dovrebbe essere sostenuto da tessuti e articolazioni stabili, mobili, non flessibili. Essenzialmente l'allungamento non deve essere raggiunto perché il carico ti forza ad arrivarci, ma deve essere un qualcosa che devi percepire come sorretto dalle tue articolazioni e tessuti. E perciò è come sempre importante considerare il contesto dell'atleta in questione. Se l'individuo in questione tende a perdere range di neutralità, specialmente dalla colonna in questi casi, quando si raggiunge un determinato tipo di profondità, potrebbe voler dire tranquillamente che il femore sta toccando su osso l'articolazione dell'anca, l'acetabolo dell'anca. E quindi semplicemente sta andando a perdere la neutralità perché meccanicamente ci sono degli spostamenti a livello osseo e da lì non ci si può muovere, a meno che non si va a modulare diversamente l'angolazione dei piedi e la larghezza dei piedi, cose che andremo a vedere adesso. Setup ed esecuzione. Qualsiasi sia l'incastro scelto, comunque il setup risulta essere sempre identico. Avvicinati al rack, posiziona il bilanciere anteriormente o posteriormente a seconda dell'incastro scelto, esegui l'unrack del bilanciere e fai non più di 3-4 passi indietro per portarti in posizione di partenza. Ricorda sempre centrale, laterale, laterale e dovresti essere in ordine. In questo momento, facciamo riferimento a quello che dicevamo prima, la posizione dei piedi deve rispettare le peculiarità dell'individuo. Tipicamente si consiglia di iniziare con i piedi poco più larghi delle spalle, con le dita che puntano le 11 e all'una. Da qui ci si muove ed è molto individuale, c'è chi sta meglio con la posizione più larga, con la rotazione più larga, più ampia e viceversa è tutto ciò che è in mezzo a queste due cose. Prima di iniziare la discesa, prendere un gran respiro evitando di elevare la cassa toracica e le spalle, sbagliato, e invece prendere un respiro con l'aria in pancia, cercando di creare una contrazione dell'addome per generare la pressione intraddominale che tornerà particolarmente utile durante l'intero movimento. Dopo aver creato la pressione intraddominale si potrà scendere in buca, trattenendo il fiato come se si stesse entrando entro l'acqua essenzialmente. Durante tutta la discesa, premere con l'alluce sul pavimento, pensando di aggrapparsi il più forte possibile. Questo aiuterà a mantenere il peso al centro del piede, il baricentro, durante tutta la fase di discesa, cosa fondamentale. Una volta arrivati in buca, senza eseguire alcun fermo, se non è prescritto, passare alla fase concentrica successiva del movimento in maniera esplosiva. La questione del fermo risulterebbe molto interessante da applicare se si tratta di un contesto di bodybuilding, quindi si vuole portare a casa lo stretch in massimo allungamento e mantenere lo stretch in massimo allungamento, consiglio. Mentre per il powerlifter, logicamente, andare troppo a enfatizzare questa fase potrebbe sconvolgere troppo la tecnica primordiale del movimento e quindi, logicamente, andare a far abbassare il carico quando si deve andare in competizione. Quindi stiamo attenti quando si va a inserire. Per quanto riguarda l'equipaggiamento, abbiamo già fatto qualche riferimento particolare. Trovo particolarmente utile una buona cintura da powerlifter per tutti i casi, escludendo la falsa diceria, secondo la quale dovrebbe aiutare con la prevenzione infortuni, che non è questo sicuramente il caso. Possiamo però sicuramente validarne l'efficacia nel mantenere e potenziare quella che è la pressione intra-addominale di cui abbiamo parlato prima. Quindi generare più stabilità e quindi generare più forza. Ricorda, non puoi sparare con un canone da una canoa. Almeno una volta a video, devo dirlo, è l'easter hack. Io personalmente sto usando la cintura di Kaizen, del nostro sponsor. Puoi usare il codice sconto M.I.C. per avere un piccolo sconto sul carrello. Fighissima la cintura con la leva. Ci sono un sacco di cintura e comunque anche su Amazon. Ti lascio magari qualche riferimento in descrizione. Sia a fibia che a leva. La leva è molto più comoda se lo utilizza soltanto una persona, perché una volta che hai trovato la misura si tratta semplicemente di una gancia e sgancia. Mentre per quanto riguarda la fibia potrebbe essere utile se lo utilizza più di una persona e c'è bisogno di misure diverse ogni volta, quindi bisogna andare a modularla in base alla pancia dell'individuo. Nel caso in cui si volesse mantenere calda e stabile l'articolazione del ginocchio, si può fare affidamento anche a delle ginocchiere. Ginocchiere che variano di tipologia a seconda di quelle che sono necessità. Si parte dalle ginocchiere più easy, in neoprene tipicamente, che riscaldano e stabilizzano veramente poco l'articolazione e si va fino alle ginocchiere effettivamente più stiff da powerlifting che vanno essenzialmente a chiudere l'articolazione e danno anche un bel boost a livello di uscita dalla buca. Anche qui le trovi su Kaizen Atletica, codice sconto Mitch per avere un piccolo sconto, ma le trovi qualcosa anche su Amazon e le più canoniche sono le SBD, però non trovo assolutamente necessario andare a comprare le SBD per un frequentatore di sala pesi comune. Ultima e non per importanza, probabilmente la cosa più importante, le scarpete con il tacco. Come abbiamo visto possono tornare particolarmente utili per raggiungere profondità consone durante la cosciata. Io dagli albori del mio percorso ho usato quelle bruttissime economiche di Amazon, solo da qualche anno sono passato alle Nike Romaleos, fighissime, assolutamente un upgrade molto molto interessante. Si può fare lo stesso percorso, iniziare con quelle più economiche, nel momento in cui si si rende conto che si vuole passare a quelle più professionali allora fare l'investimento. Anche qua ti lascio tutti i link in descrizione. Passiamo e concludiamo ora con la programmazione. Come inserire tutto questo in un contesto di allenamento. Le cosciate tendono sempre ad essere tra i movimenti più stimolanti e affaticanti che abbiamo a disposizione nel nostro arsenale, quindi dobbiamo usarle correttamente con parsimonia ma non averne paura. Lo stress è imposto in tutto il corpo effettivamente, in quanto avvengono contemporaneamente contrazioni isometriche, centriche, concentriche. Per questa ragione non è consigliabile effettivamente lavorare sempre a RPE particolarmente elevati, comunque sempre vicini al cedimento. Non è particolarmente consigliato lavorare a frequenze troppo alti, volumi troppo alti, specialmente se non si ha una conformazione particolarmente favorevole all'alzata. Se sei un asiatico con il femore di due centimetri puoi fare squat quanto vuoi, ti diventerà la gamba gigante e probabilmente non avrai nessun tipo di fastidio articolare. Se sei un occidentale con il femore di 18 metri e mezzo, probabilmente esagerare con le accosciate potrebbe iniziare a darti qualche fastidio. Il bodybuilder, da questo punto di vista, come avrei capito, ha la possibilità di scegliere in un vastissimo parco esercizi per quanto riguarda i movimenti di accosciata, quindi potrebbe trovare magari dei maggiori benefici dall'utilizzo di macchinari o di movimenti unilaterali, cosa è comunque che andremo a vedere con dei video dedicati. Quindi sto parlando di leg press, axe squat per esempio, pendulum squat per quanto riguarda i macchinari, mentre sui movimenti unilaterali ci sono le varie tipologie di affondi, amatissimi affondi, split squat bulgari, step up eccetera eccetera. Considerando quindi una volta selezionati queste diverse tipologie di accosciata, andare lì ad inserire quella che è la progressione principale da portare avanti nel lungo termine, piuttosto che alla pura, quindi estensione di accosciata con il bilanciere. Il powerlifter invece non ha molta scelta da questo punto di vista, deve per forza di cose utilizzare lo squat con bilanciere, quindi selezionerà l'incastro che gli permetterà di sollevare più chili e cercherà di fare in modo che il lavoro che andrà a fare in allenamento favorirà la salita del carico che andrà a sollevare nella sua accosciata principale. Nel caso in cui, come dicevamo prima, non fosse però particolarmente portato per l'alzata e quindi dovesse ricavare troppo affaticamento in relazione allo stimolo che si porta a casa con l'esercizio. Una strategia interessante a livello di programmazione potrebbe essere quella di, logicamente, tenerlo sempre inserito in programmazione, magari a volumi più bassi, a RPE più bassi, caratterizzando quindi gli allenamenti con basse ripetizioni, carichi sul 80% in su e range di RPE particolarmente ampi, quindi andare dal 5, anche RPE 5, 6, fino poi in alcuni casi anche al 10. Naturalmente tenere in considerazione il classico tipologia di periodizzazione, mano a mano che ci si avvicina, avvicini alla competizione, si vanno a invertire le variabili e quindi si vanno a sollevare carichi sempre più elevati con sempre minore volume per fare in modo di arrivare alla competizione preparati e pronti per il test. E questo è quanto per quanto riguarda la nostra accosciata preferita che bene o male chiunque dovrebbe imparare, dovrebbe avere nel proprio arsenale di allenamento. Non per forza di cose da fare specificamente, io per esempio in questo momento non sto facendo squat con bilanciere da quasi un anno, però è un pattern motorio che bisogna apprendere, che poi ci permette di gestire tutti gli altri movimenti di accosciata in maniera molto più naturale, fisiologica e portare a casa il massimo stimolo del minore affaticamento. Ti ricordo quindi di sostenere assolutamente questa serie perché mi piace un botto, c'è sicuramente un sacco di lavoro dietro da fare, io mi diverto a farlo, però logicamente voglio che ne valga la pena, nel momento in cui vado a investire del tempo, vado a togliere del tempo ad altri lavori, mi piacerebbe vedere anche che sta andando bene. Quindi supporta la serie, un bel mi piace, un bel commento, una condivisione sarebbe ancora più figo, iscriviti se non sei ancora iscritto. Se sei un personal trainer, fai riferimento assolutamente ad Adaptive, scuola di formazione imprenditoriale per personal trainer. Se sei un amante dell'allenamento, considera assolutamente for life, percorso annuale, comprensivo di coach, nutrizionista, app personalizzata, check costanti con il sottoscritto in video call, in modo tale da assicurare il progresso nel tuo percorso fitness. Io per oggi la chiudo qui, ti auguro una fantastica giornata e ti saluto.